Negli splendidi e sconfinati paesaggi nordici, le passioni più calde, i segreti più inconfessabili, gli amori più tenaci, firmati in Gallinstra. Cerco Eric Larson, uno scrittore. Mia figlia lo ha appena buttato fuori di casa, stavolta per sempre, spero. Dove posso trovarlo? Non lo so. Luna d'estate, sabato alle 21.10, sulle 5. Luna d'estate.